amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati dicono che stiamo andando verso la grande siccità ma poi succedono le alluvioni peraltro non causate dal clima come abbiamo visto anche qui sul nostro canale e i cosiddetti esperti modulano le loro spiegazioni seconda degli eventi attribuendole sempre e comunque l'attività dell'uomo si è creato il mito della 97 per cento di consenso della comunità scientifica sul riscaldamento climatico anche se il fisico carlo rubia premio nobel e senatore a vita della repubblica italiana non fanno senatore a vita solo mario monti ma anche ma anche hanno fatto nel passato carlo rubia ha affermato appunto anche in sede parlamentare che la responsabilità dell'uomo verso il riscaldamento climatico è pressoché irrilevante parliamo di queste tematiche con gilberto trombetta oggi in veste diciamo inedita perché lo conosciamo tutti come esperto di tematiche economiche ma gilberto trombetta per lavoro da 20 anni si occupa anche di divulgazione e pubblicazioni scientifiche gilberto ben trovato ben trovato carlo ben trovati i nostri ascoltatori oggi cambiamo completamente settore e ci tengo a dire per sempre per onestà e magari anche per ribadire l'ovvio che io non parlerò di pubblicazioni scientifiche in veste di scienziato cioè di virologo di immunologo di climatologo però sicuramente so cosa sono le pubblicazioni scientifiche come funzionano quali sono i loro limiti e insomma andiamo a raccontare un po di curiosità e di dati che secondo me sono molto interessanti ecco senti si è creato come dicevo il mito del 97 per cento di consenso della comunità scientifica sul riscaldamento climatico no è già questo un concetto che va smontato diciamo no assolutamente sì io ci volevo arrivare come chiusura ma insomma lo anticipiamo come tema raccontiamo da cosa nasce questo 97 per cento e perché è importante il fatto che spingano su questo numero innanzitutto è diventato come dire di pubblico dominio al di fuori della comunità scientifica grazie grazie per colpa di un tweet fatto da barack obama ormai circa dieci anni fa in cui ha detto il cambiamento climatico esiste colpa dell'uomo lo dice la scienza la dico molto sintetica ma il senso del twitter a quello ora da cosa deriva questo famoso 97 per cento in realtà carlo a diverse origini o meglio diverse pubblicazioni scientifiche che citano questo numero ora in questo caso non è colpa delle pubblicazioni scientifiche sono stati estrapolati dei dati in maniera volutamente come dire malevola ecco mi verrebbe da dire e le raccontiamo velocemente alla uno degli studi più famosi che da cui estratto questo 97 per cento è uno studio che ha inviato questionari a scienziati di vari settori che sono più o meno collegati al settore del clima del cambiamento climatico parliamo di 10.527 questionari che chiedevano sostanzialmente se c'è in atto un cambiamento climatico e se c'è una componente antropica ora anche qua come sono stati selezionati questi scienziati perché non è stato chiesto se la risposta è sì qual è il peso la componente antropica insomma ci sarebbe tutto un discorso di metodo ma poi allargheremo troppo insomma comunque su questi 10.527 questionari che sono stati inviati hanno risposto in 3.146 esperti a vario titolo di clima mettiamola così tra queste 3.146 risposte carlo 77 scienziati si sono autodefiniti più esperti di clima degli altri di questi 77 scienziati 75 erano d'accordo sul fatto che nei cambiamenti climatici in corso c'è una componente antropica grande piccola non entravano nel merito ecco quei 75 scienziati su 77 sono il 97 per cento ecco allora tu che sei esperto di numeri questi 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 75 sul complessivo di 10.000 eccetera quanti cosa costituisce lo zero virgola quel che non vuol dire che tutti gli altri che non hanno risposto siano contrari attenzione da questo questionario viene fuori che per esempio circa il 70 per cento di scienziati consultati che hanno risposto quindi quei 3.000 spicci concordano che nel cambiamento climatico in corso c'è una componente antropica non dicono se piccola in influente o meno però capisci che dire che il 70 per cento che ha risposto a quel questionario condivide la cosa o dire il 97 per cento cambia molto l'altro studio da cui hanno tirato fuori quello più famoso quello di cook si basa sulla revisione perché gli studi possono fare cose nuove o prendere studi esistenti su un argomento tutti quelli esistenti e sottoporgli a review cioè vedere cosa dicono tutti gli studi che parlano di un argomento è quello che ha fatto cook che ha preso 11.944 pubblicazioni scientifiche nel cui abstract compariva la parola cambiamento climatico anche qua carlo ci sarebbe tantissimo da dire sul metodo scelto non si può fare una ricerca con google leggere solo l'abstrat e affidare la lettura solo dell'abstrat di questi 11.000 studi a cittadini tra l'altro già impegnati sul fronte del cambiamento climatico di origine antropica cioè con delle con dei condizionamenti dei bias direbbero gli inglesi tralasciamo questo che cosa hanno detto questa revisione di 11.000 studi che il 32,6 per cento di questi studi dice che c'è una componente antropica nel cambiamento climatico di questi 32,6 per cento il 97 per cento ne sostiene l'origine prevalentemente antropica ma anche qua il 97 per cento del 32,6 per cento ripeto lasciando perdere tutte le falle metodologiche di questo studio che ne avrebbe tantissime no ma capisci che il 97 per cento del 32,6 per cento non è il 97 per cento soprattutto non è il 97 per cento dell'intera comunità scientifica però perché si insiste tanto su questo dato quando comunque anche dire che il 60 70 per cento condivide questa posizione è comunque un numero elevato perché se tu fai passare il concetto che il 97 per cento di tutti gli scienziati condivide dell'origine prevalentemente antropica cosa mai scritta in nessuno di questi studi tra l'altro dei cambiamenti climatici tu puoi semplicemente dire che quel 3 per cento teorico di scienziati che non è d'accordo sono gente poco affidabile incapaci non esperti del settore se invece dici che il 20 30 40 per cento non condividono non esiste nessun 97 per cento molto chiaramente e anche quando arriviamo a cifre superiore al 50 per cento si tratta di scienziati che condividono che esiste una componente antropica non che dicono che la causa è esclusivamente antropica o è la più importante e attenzione carlo e qua chiudo poi ci torniamo dopo anche qualora come dire il consenso fosse effettivamente del 97 per cento guarda del 100 per cento e non lo è la scienza non funziona maggioranza perché è democratica ma su questo concetto mi riservo di tornarci dopo spiegandolo meglio eh sì e ci ritorniamo dopo effettivamente il concetto è che quando ci fossero un 20 come è in realtà un 20 per cento di scienziati che affermano il contrario non puoi considerare una percentuale così alta dei degli degli scienziati creativi o o esoterici o o bohemian mettiamola mettiamola così non regge non sta in piedi non sta in piedi non sta in piedi senti Gilberto c'è una letteratura c'è ma parecchio materiale parecchi documenti eh sulle lobby che negli anni hanno pagato scienziati sia per pubblicare certi tipi di studi e pagati anche per boicottarne altri di studi no? Esattamente questa è un'altra parte molto interessante che riguarda chi conosce bene l'ambito delle pubblicazioni scientifiche e non chi dice di conoscerlo ma poi non è così vi rubo pochissimi secondi un paio di minuti per raccontarvi un episodio uno di quelli che dovrebbero essere molto famoso tra il 1940 e il 1970 quindi quasi per 40 anni perché fino quasi alla fine del 1970 due nutrizionisti di Harvard quindi parliamo una delle università più importanti al mondo già lo era all'epoca hanno frederick ster e mark eggstead hanno pubblicato decine e decine di studi realtà centinaia che riguardavano il legame tra assunzione del grasso e malattie cardiovascolari insomma se mangiavi troppa carne ti venivano l'infarto emotivi chiaro? Ehm queste sono state persone che hanno ricoperto incarichi fondamentali a tutti i livelli per esempio eh eggstead è stato consulente del dipartimento dell'agricoltura poi commissione sulla nutrizione dei bisogni umani del senato degli stati uniti eh poi è stato membro dell'accademia nazionale delle scienze eh editor della rivista prestigiosa almeno all'epoca nutrition review consulente della FAO e dell'organizzazione mondiale della sanità un'eminenza assoluta ha pubblicato tantissimi studi che appunto evidenziavano il ruolo prevalente dell'assunzione di grassi nella nell'aumento delle patologie cardiovascolari contemporaneamente proprio come editore o come ehm esercitando la peer review di altre riviste scientifiche che lo chiamavano a giudicare i lavori di altri scienziati ha costantemente boicottato tutti quei lavori sempre di più nel corso degli anni che invece mettevano in evidenza il ruolo degli zuccheri nell'aumento delle patologie cardiovascolari dice vabbè aveva una posizione diversa ci sta la scienza è proprio questo peccato che tanti decenni dopo cioè nel 2016 dei documenti di Harvard hanno dimostrato che lui e il suo collega sono stati pagati per tutti questi decenni dall'associazione e dalla Sugar Research Foundation ok che produceva zucchero per fare pubblicazioni che sminuivano il ruolo dello zucchero nell'aumento delle patologie cardiovascolari invece aumentando l'impatto dell'assunzione di grassi peccato che con questi studi è stato eh sostanzialmente deviato influenzato pesantemente il dibattito scientifico e pubblico per 40 anni perché lo diceva la scienza a Harvard e poi le pubblicazioni erano su riviste scientifiche prestigiosissime tutte false tutte pagate ancora oggi alcuni dei suoi lavori vengono citati in positivo in altre pubblicazioni scientifiche sì il suo lavoro più famoso quello che smontava tutti i lavori sull'impatto dello zucchero sminuendo invece il ruolo scusami il contrario eh sminuiva il ruolo dello zucchero aumentando il ruolo dei grassi viene ancora oggi citato a più di 200 citazioni questo perché qualcuno dice che per valutare una pubblicazione scientifica dipende dall'impact factor della rivista cioè quanto è prestigioso e dal numero di citazioni dell'articolo eppure questo articolo che è prezzolato e falso viene ancora oggi citato a tantissime citazioni ed è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine se non è la più importante rivista scientifica la seconda o la terza ci sono tanti altri criteri Carlo ci sono pubblicazioni scientifiche molto importanti pubblicate su riviste scientifiche con un basso impact factor e mondezza vera o cose false che non valgono niente per il metodo per i risultati pubblicate su prestigiosissime riviste scientifiche anche qua mi riservo di fare altri esempi anzi se voi li facciamo subito qua è per chiudere di quello che hanno fatto due scienziati di Harvard e la cosa come abbiamo detto è venuta fuori solo nel 2016 ma la stessa cosa come hai citato te Carlo è successa per esempio nel corso degli anni con le lobby del petrolio che hanno pagato scienziati politici opinionisti oggi diremmo influencer che sminuire il ruolo del petrolio nell'inquinamento ambientale non solo nel cambiamento climatico climatico nel cambiamento atmosferico ostacolando così lo sviluppo per interessi come dire economici di tecnologie alternative è successa la stessa cosa con le lobby del tappacco che per anni hanno finanziato studi che servivano a sminuire l'impatto del fumo sulle patologie oncologiche per esempio o di altri scienziati prezzolati di spiace dirlo che abbassavano costantemente la soglia per stabilire i valori diciamo di un'analisi di un indicatore per stabilire se una persona è malata o no perché lo facevano perché se tu devi avere un valore per risultare malato se tu abbassi di 0,2 il valore per dire che sei diabetico vuol dire che tu con una semplice pubblicazione hai creato 10 milioni di nuovi malati di diabete che devono assumere farmaci e questi erano pagati dalle lobby del farmaco un esempio clamoroso è stato alcuni anni fa i valori sul colesterolo per esempio bravissimo cioè queste sono cose che succedono costantemente sono successe e continuano a succedere soprattutto quando dietro ci sono tantissimi soldi che girano più è alto il livello degli interessi in ballo più bisogna stare attenti a quello che dice la vulgata comune anche scientifica chiarissimo senti Gilberto l'altra grande questione critica poi è quella della irriproducibilità degli studi no qui ecco questo è un altro grande tempo avevo fatto un calcolo tra l'altro a mente al volo la è stata dichiarata gli studi praticamente sugli effetti dello zucchero sono stati dichiarati ufficialmente risultati ufficialmente manipolati ho fatto il calcolo 76 anni dopo dal loro inizio in pratica 1940 2016 76 anni ci sono voluti assolutamente me sono partito da quell'esempio perché ha avuto rigadute concrete sulla vita di milioni di persone soprattutto americane e sulla morte perché in quegli anni è stato consigliato di sostituire i grassi con più zucchero con una dieta con più zuccheri gli infarti anziché diminuire le malattie cartovascolari sono aumentate quindi guardate che cosa fa anche la scienza o una parte della scienza se dietro ci sono i soldi ecco ritorniamo appunto alla questione che avevo già posto la quella della irriproducibilità degli studi questo è un tema che chi si occupa di ricerca scientifica conosce e sente tantissimo perché in realtà dovrebbe essere il principio cardine alla base del metodo scientifico cioè la riproducibilità degli studi e dei risultati ottenuti ovviamente perché se uno studio riproduce uguale ti dà risultati diversi molto diversi antitetici è ovvio che abbiamo un problema che cosa è successo che ci sono stati tanti studi nel corso degli ultimi anni che hanno dimostrato l'irreplicabilità della maggior parte degli studi ok cioè molti studi non sono riproducibili e spesso quando si riesce a riprodurli i risultati sono diversi a volte antitetici anche qua per dare qualche riferimento preciso e qualche numero nel 2016 un sondaggio condotto da netur da netur anche in questo caso una delle più importanti riviste scientifiche per impact factor al mondo fatto su circa 1500 scienziati di diverse discipline ha riportato come 7 scienziati su 10 cioè il 70 per cento non è stato in grado di riprodurre gli esperimenti di un altro scienziato del suo stesso settore 7 su 10 attenzione un numero altissimo più nel dettaglio l'87 per cento dei chimici non è stato in grado di riprodurre esperimenti di altri chimici il 77 per cento dei biologi il 69 per cento dei fisici e degli ingegneri il 67 per cento dei ricercatori medici il 64 per cento degli scienziati della terra e dell'ambiente il 62 per cento di tutti gli altri ha dichiarato di non essere stato in grado di replicare gli esperimenti fatti da altri un altro dato curioso interessante è che la metà cioè il 50 per cento ha dichiarato di non essere in rado di riprodurre neanche i risultati dei loro stessi esperimenti questo pubblicato sono le più importanti riviste scientifiche ci sono tantissimi altri studi che dimostrano in maniera inequivocabile questo problema dando anche delle spiegazioni anche quando ne entreremo nel merito ma per citarne alcune anche la scienza soffre di condizionamenti e pregiudizi i famosi bias di cui abbiamo parlato prima o anche di qual è la teoria più in voga scientifica in quel momento storico non solo soffre da condizionamenti anche inconsci da parte dei finanziamenti o conflitti di interesse che non vuol dire per forza essere pagati per scrivere cose false ma se ti paga un'azienda per condurre uno studio che riguarda un prodotto che poi loro vendono anche se tu sei un bravo scienziato capita spesso che quel quello studio tenda a dimostrare i risultati che tu sai che quell'azienda vorrebbe quindi sono problemi di metodo di bias di raccolta dati di lettura dei dati sono metodi viziati insomma in qualche modo condizionati ecco mettiamolo condizionati non solo anche poi vorrei fare due piccole citazioni di casi esistenti anche più recenti per quanto per dire che non è che la pubblicazione su una rivista scientifica con impatto roalto è garanzia assoluta di qualità ebbene dall'87 sono comparsi diversi studi su riviste scientifiche di settore molto importanti come il journal of statistical physics o il journal of chemical physics a firma del tale professore palermitano stronzo bestiale ovviamente era un nome inventato le riviste non se ne sono rese conto neanche gli scienziati che facevano la peer review oppure nel 2020 caso a noi più vicino che molti si ricorderanno sono stati pubblicati due studi scientifici a me fa ridere di chiamarli così su due delle massime riviste esistenti cioè l'ANSET e il new england journal of medicine sempre lui quello anche diciamo degli zuccheri per capirci in cui si dimostrava che l'uso dell'idrossiclorochina per curare il covid non funzionava e anzi era dannoso peccato che poche settimane dopo le due riviste scientifiche si siano dovute scusare ritirando gli studi su cui però l'organizzazione mondiale della sanità va indicata a tutto il mondo di non utilizzare questo farmaco perché era stata fatta da un gruppo semi sconosciuto americano in cui ci lavoravano uno scrittore di fantascienza e un'attrice porno su due delle più importanti riviste mediche al mondo che l'OMS ha utilizzato per dare indicazioni di utilizzare questo farmaco e guarda non merita commento non servono commenti quello che hai citato soprattutto la parte finale di questa tua disamina dice già tutto parole in più sarebbero inutili sarebbero addirittura superflue senti il gilberto andando in ambito politico traducendo adesso tutto in ambito politico quindi la scienza è democratica contrariamente a quello che abbiamo sentito dire anche a qualche televirologo no in questi anni qua quindi la è democratica quindi non è esclusiva o peggio dittatura della maggioranza ecco questo questo è il concetto no questo è il concetto più importante che dovrebbe essere alla base della vera scienza dico vera scienza per distinguerla non ci diciamo intorno cioè è tornato in voga una cosa che avevamo sconfitto a inizio novecento cioè lo scientismo c'è una fase di storica in cui era diciamo un po più in crisi la religione il dio della religione o delle religioni era stato sostituito dallo scienziato e dalla scienza che veniva vista come appunto una nuova religione che andava avanti solo a dogmi ok fortunatamente al contrario di quello che racconta burioni la scienza vera funziona all'esatto contrario anche qua oggi si fa molto si parla molto di intelligenza artificiale no per i rischi anche che comporta visto che oggi sembra molto più vicina però il massimo teorico il primo teorico dell'intelligenza artificiale che anche stato quello lo scienziato grazie al quale sono stati sconfitti nazisti no parliamo di alan turing alan turing ha decriptato il sistema di criptaggio che nessuno riusciva a decifrare dei tedeschi peccato che questa cosa è stata tenuta nascosta per anni anzi il suo governo quello inglese pur essendo lui un eroe vero in incognito essendo lui omosessuale l'ha costretto a una cura chimica che l'ha portata al suicidio il suo nome poi è stato riabilitato 30 40 anni dopo ma al di di questo lui è stato il più grande teorico dell'intelligenza artificiale è quello che ha inventato il test di turing che ancora oggi viene utilizzato in varie forme per decretare se una computer un programma è in grado di simulare l'intelligenza che è diverso dal dire che è intelligente ma anche qua apriremo un altro caso lui a 16 anni da solo aveva scoperto e studiato einstein cosa aveva colpito a quel giovane turing di einstein beh aveva scritto alla madre molto aveva 16 anni all'epoca e turing einstein ha messo in dubbio gli assiomi di galileo di newton adesso ha degli assiomi tutti i suoi e può proseguire con la sua logica sbarazzandosi dei vecchi concetti di spazio e di tempo ecco se oggi ragionassero tutti come burioni o come tozio o avessero ragionato così vent'anni fa 40 anni fa 50 anni fa noi non avremmo mai avuto le rivoluzioni di galileo di newton di einstein di planche di tantissimi altri chiaro chiarissimo senti gilberto e la scienza il confronto quindi e questa è la base della della scienza del concetto di scienza c'è da difidare quindi chi rifiuta i confronti direi a questo punto no assolutamente qua assolutamente sì anche qua vorrei citare un esempio a noi che sta più a cuore perché adesso abbiamo visto che i televirologi i virologi star sono stati sostituiti dai climatologi star cioè quelli che dicono che la scienza dice solo una cosa chiunque dice il contrario è un analfabeta funzionale anzi è un negazionista un termine veramente infame tra l'altro permettimi di dire che il termine negazionista climatico non vuol dire nulla nessuno al mondo nega che esista il clima nessuno al mondo nega che esistano i cambiamenti climatici che esistono da quando esiste la terra neanche l'uomo c'è una differenza di vedute e di posizioni se c'è una componente antropica e se c'è come molti ritengono che peso effettivamente abbia poi ripeto un conto è parlare di problema ambientale che è molto più ampio e complesso un conto è parlare solo di clima ma è uscito pochi mesi fa uno studio molto interessante su una rivista fatto da scienziati che si occupano di radiazioni quindi hanno studiato le hanno utilizzato le radiazioni per fare questo studio e questo studio ha dimostrato sostanzialmente è riuscito ad analizzare grazie allo studio delle radiazioni la componente della co2 diciamo naturale e quella di origine antropica in un lasso di tempo lunghissimo dal 1750 al 2018 pubblicata su health physics che è una rivista che si occupa di radiazioni ok quindi pertinente questo studio ha dimostrato che solamente il 12 per cento delle emissioni totali possono essere attribuite all'uomo quindi dalla industrializzazione in poi troppo poco per avere influenzato il clima ok io non entro nel merito di questi risultati perché appunto non sono un climatologo però alcuni degli scienziati che si sono scandalizzati hanno reagito con rabbia non sono entrati nel merito di questo studio scientifico contestandone i risultati ma hanno attaccato l'editore della rivista scientifica dicendogli sostanzialmente se un incompetente se un'analfabeta funzionale la tua rivista non può parlare di questa cosa gli autori avrebbero dovuto sottoporre lo studio a riviste più qualificate di settore e chi ha fatto la peer review di questo studio non ne capisce niente di clima ecco la risposta dell'editore forse è più interessante dell'articolo stesso che ha pubblicato perché molto semplicemente la rivista si occupa di radiazioni e nella sua lunga storia ha pubblicato già tanti studi che riguardano appunto la climatologia ovviamente legata all'uso di radiazioni ok però lo ha fatto quindi non era una novità lo aveva già fatto non solo chi ha fatto la peer review di questo di questo studio è segreto non si capisce come facciano quelli che criticano che chi ha fatto la peer review non è qualificato se non si sa chi l'ha fatta quindi una critica preconcetta tra l'altro l'editore ha detto peccato che erano scienziati esperti di scienza dell'atmosfera meteorologia e climatologia non solo gli autori hanno detto che avevano sottoposto a riviste più specifiche il loro studio ma queste riviste scientifiche hanno respinto lo studio perché non erano in grado di fornire una peer review specializzata cioè oltre che di clima dovevano capire anche di radiazioni molto semplicemente quindi sono tutte delle critiche infondate che come sono delle critiche a dominem cioè non entrano nel merito ripeto io non sto dicendo che questo studio è perfetto è il migliore che esista però è stata attaccata la rivista e l'editore dicendo tu non sei in grado non dovevi pubblicare dicendo cose che non stanno né in cielo né in terra chiudo dicendo un dato perché io purtroppo su queste cose torniamo forse al settore di cui vi parlo sempre l'economia che giro di affari ci sta dietro a quello che qualcuno ha chiamato complesso climatico industriale ebbene c'è un report di McKinsey molto recente di pochi mesi fa che stima in 276 trilioni di dollari lo ripeto perché 276 trilioni di dollari da qui al 2050 per provare a raggiungere l'obiettivo di emissioni zero parliamo di 9200 miliardi di euro l'anno tenete conto che il pil mondiale è di 104 trilioni di dollari qua parliamo di 276 trilioni di dollari 9200 miliardi di euro l'anno questo è il giro di affari che ci sta dietro il che non vuol dire ripeto che chiunque sostenga che c'è una componente antropica è sicuramente prezzolato o pagato ma di tutte queste cose che noi vi abbiamo raccontato bisogna tenere conto la riproducibilità la differenza di opinioni non esiste il 97 per cento di consenso il consenso varia da un 60 a 70 80 per cento in base alle fonti ma dire che il 20 30 40 per cento degli scienziati non condivide la causa prevalentemente antropica non sarebbe raccontabile perché smonta tutte queste politiche che ci stanno imponendo come se noi fossimo la causa della fine del mondo stesse per avvenire la fine del mondo e soprattutto anche qualora fosse vero Carlo è il solito discorso che noi diciamo sempre in economia chi le deve pagare queste cose perché le devono pagare i cittadini di tasca loro non c'è nessun motivo guarda due considerazioni mi vengono in finale anche la tua disamina quest'ultima disamina economica conferma per l'ennesima volta la regola aurea segui il denaro come dicono gli inglesi follow the money e capirai il perché succedono eventuali altre cose un'altra considerazione che mi viene in questo senso ribadisco il concetto di fidare di scienziati ricercatori esponenti della scienza che rifiutano il confronto sempre di fidare questa è una regola aurea e noi perché questa cosa l'avevamo già detta qualche settimana fa ma ricordiamola anche qualora avessero ragione quelli che dicono che c'è un cambiamento climatico prevalentemente per ragioni antropiche e queste ragioni antropiche sono solo da ricercare non su come trattiamo l'ambiente in generale ma solo sulle emissioni di CO2 ho detto anche se fosse vero ricordiamo sempre che l'Unione Europea a livello globale a livello di emissioni di CO2 in valori assoluti e in percentuali sul totale conta veramente poco l'Italia nello specifico conta meno di zero lo dico in condizione di causa cioè conta lo 0,8% delle emissioni globali e l'Italia negli ultimi 50 anni ha già dimezzato le emissioni di CO2 quindi anche qualora avessero ragione loro non è un problema che riguarda l'Italia quindi per favore non rompeteci le scatole non rompeteci le scatole chiudiamo così con questa esortazione quanto mai giusta e dovuta una puntata è un tema che sicuramente avrà sorpreso i nostri ascoltatori che ti seguono con Silvita il martedì Gilberto qui al vaso di Pandora ma ricordo come ho detto all'inizio il tema di cui abbiamo parlato oggi di questo Gilberto Trombetta se ne occupa da un punto di vista professionale da circa 20 anni perché si occupa di divulgazione e pubblicazioni scientifiche e abbiamo visto anche quanto tutto questo ti appassiona grazie siamo in chiusura grazie Gilberto Trombetta e noi ci troviamo martedì prossimo sicuramente ritorneremo penso a parlare di temi di economia e quindi ci diamo appuntamento a martedì prossimo grazie grazie Carlo e grazie a tutti per la pazienza per questo excursus grazie grazie a tutti voi amici ascoltatori grazie a tutti